Tra miraggi e realtà, ma che vorrà mai dire? Beh, adesso vi spiego tutto. Voi però, come sempre, lasciate già un mi piace e ricordatevi di iniziare i vostri acquisti su Amazon partendo dalla mia vetrina. Trovate il link nella descrizione di tutti i video che pubblico. Allora, questa notte gli dèi del wrestling mi hanno benedetto con il sogno di un viaggio in Giappone. Una delle mie piccole fisse, no? Durante il quale andavo a visitare i luoghi mitici del wrestling di quella nazione. Ovviamente al risveglio ti dimentichi quasi tutto, ma di una cosa sono certo. Di aver pagato omaggio alla statua commemorativa di Antonio Inocchi a Yokohama. Antonio Inocchi, uno dei motivi se da bambino ho iniziato a sognare il lavoro che svolgo da 25 anni. Tutto il resto è avvolto nella nebbia. Ma so che durante il sogno sono finito lì. A dire un silenzioso grazie. Certo, poi ho dovuto rimboccarmi le maniche e metterci anche un po' di olio di gomito. Però, se non avessi visto il proresu, i grandi eroi del wrestling giapponese da bambino, probabilmente la fiamma del desiderio non si sarebbe accesa. Ora, non so dirvi il come mai di questa esperienza onirica. A volte c'è qualcosa che vedi o in cui ti imbatti che sedimenta, fermenta nel cervello e poi si tramuta in ciò che non ti aspetti. Forse è un risarcimento, visto che difficilmente andrò mai nella terra del sole levante, e allora la vivo con questa esperienza così particolare. Forse la colpa è dell'arbitro italiano Johnny Puttini, arbitro di wrestling, che sta vivendo un viaggio, chiamiamolo annuale, in Australia e che ha fatto scalo, qualche settimana fa, pure in Nippolandia, dove ha incontrato, come vedete in foto, il primo Tiger Mask Satoru Sayama. Mamma mia, che invidia. Tra l'altro, il wrestler lo ha trattato con i guanti bianchi, con quelli di velluto, addirittura incomiandolo durante una manifestazione ufficiale. Ah, quanto avrei voluto essere io! Ma ognuno il suo, no? Vabbè, accantoniamo queste malinconie e rincasiamo, almeno parzialmente, tra le porte della realtà. E torniamo a sabato mattina. Io mi sveglio con questa esperienza di cui mi ricordo vagamente e inizio a lavorare. Tuttavia, il mio impegno viene deragliato e interrotto perché su Facebook, dalla mia fanpage, arriva un messaggio privato da parte di un ragazzo che mi prega di metterlo in contatto con Alexa Bliss, perché qualcuno sta cercando di truffarlo spacciandosi per lei sui social. Ne segue una conversazione nella quale, non richiesti, mi invia altri esempi di pseudostar del ring che lo avrebbero avvicinato sul web. Io gli chiedo, ma su quale social? E lui ribatte, su tutti. La cosa inizia un po' a puzzarmi. Alcune conversazioni sembrano, tra l'altro, iniziate da lui. E il suo è un profilo chiaramente fake. Non ci sono, tra gli amici, persone reali. Solo personalità femminili italiane. Non ho verificato se profili ufficiali o no. E a larghissima maggioranza, pagine, finte, di lottatrici della WWE e di altre federazioni di wrestling. Ad ogni modo, mi racconta che hanno tentato di fargli inviare delle gift card, quindi di truffarlo. Eppure di vendergli un'auto che avrebbe dovuto pagare in anticipo. E poi gliel'avrebbero spedita all'America, credo. E poi mi dice che quando ha ricevuto il numero per parlare con Alexa, in realtà, al telefono c'era un uomo in Nigeria. E che per questo aveva subito fatto denuncia alla polizia. Il racconto, credetemi, io ve lo sto sintetizzando, ma ha tantissime incongruenze. Però, magari il mio interlocutore è nel giusto. E semplicemente si spiega male. Può essere. Così gli chiedo, ovviamente promettendogli l'anonimato, di spedirmi la prima pagina della querela. Come fact-checking giornalistico doveroso, prima di raccontare in toto la sua storia. E lì accade quello che mi aspettavo, perché nella mia testa, per devianza professionale, avevo già iniziato a tracciare un suo profilo psicologico. E credo che anche voi, ad intuito, possiate pergiungerci. Secondo voi, cos'è successo? Nel momento in cui ho chiesto la verifica con la querela, e ho un po' insistito perché non me la stava mandando? Ovviamente è successo che questo interlocutore ha iniziato a mettere in dubbio me. Appigliandosi a qualsiasi cosa di futile per accusarmi di non credergli e di averlo offeso. Ovviamente non è successo. E poco dopo mi blocca. Al che dico, vabbè, a sto punto ti blocco anch'io. Morale? Probabilmente sperava di usarmi come mezzo per arrivare alla bliss. Ecco, al di là di questa vicenda di cui domani ci siamo tutti dimenticati, parlo della vicenda specifica perché è di poco conto, io prendo spunto da quest'ultima per dirvi due cose. La prima, voglio chiarirvi, perché so che ci sono tanti che lo sperano, che non riuscirete mai a creare un rapporto con le star della WWE sui social, se già non le conoscete, se già non siete venuti a contatto con loro durante gli anni della gavetta o per altri motivi, ad esempio di natura artistica. Si tratta di atleti che faticano ad avere tempo per gli affetti più cari, per i genitori, per gli amici veri, addirittura per i figli. Figuratevi se quel tempo lo dedicano a voi, soprattutto se sentono sin da subito puzza di bruciato. Magari scrivete qualcosa di carino su Twitter e vi lasciano un cuore o un mi piace, lo hanno visto, vanno anche loro sui social durante i viaggi, ma questo non significa che vogliono diventare vostri amici. Quindi l'unica è quella magari di mettervi in mostra su alcune piattaforme, Instagram per esempio, che ne so, con dei disegni o delle vignette, con dei lavori artistici. In quel caso può darsi che vi notano e potrebbero anche nascere delle collaborazioni. In Italia è successo e se seguite tutto ciò che vi propongo ve l'ho anche raccontato. Ma per il resto, le star del wrestling, quelle affermate di fama mondiale, non hanno nessuna intenzione di aumentare gli stalker che già gli stanno dietro. Non dopo che qualcuno ha tentato di violentare e rapire Sonya Deville a casa sua, o che una tizia ha reso pubblico l'indirizzo di casa di Jeyuso, come ripicca perché lui non se la filava, o dopo che la stessa Alexa ha ricevuto minacce di morte per quello che ora è suo marito, perché stava per sposarsi. Le cronache degli ultimi anni sono piene di situazioni simili. Tra l'altro, guardate che robe paradossali, eh? Ve le faccio vedere. Cioè, per fingersi la Bliss a questo tipo avrebbero mandato, perché ci affidiamo agli screenshot che lui mi ha spedito, prima di bloccarmi, gli avrebbero mandato un fax simile della sua carta d'identità. E, questa è clamorosa, un certificato di divorzio! Quello lì sotto, so che si vede poco, ma è un certificato di divorzio, che sembra più un annuncio funebre. È come a dire, oh, guarda che sono libera! In realtà sto fingendo che vada tutto bene, ma abbiamo già divorziato! Sono disponibile! E poi, ecco qua, Alexa in lacrime! Eh, la vita va male, è triste, poverina, è sola, chissà, magari ha bisogno di compagnia. Quindi, occhio, occhio che questa gente è sgamata, è tagliata, sono furbi, sanno come prendervi per la gola. Poi, se siete un po' creduloni, se vedete avverarsi quello che speravate di fronte ai vostri occhi, è facile farsi trascinare nella rete di qualche malvivente. Vabbè, la seconda avvertenza, invece, è molto più spietata, ed è questa. Io ho avuto l'impressione che chi ha provato ad usarmi viva ardentemente il desiderio di interagire con una ragazza della WWE. È come lui chissà quanti. È a furia di trovare muri, magari dopo un po' vi bloccano anche, e quindi si cercano altre strade o scappatoie, ecco che si finisce in balia di questi truffatori che sfruttano ciò che sperate a loro vantaggio. Però, se doveste finire nelle loro grinfie partendo da questo presupposto, da me non avete nessuna solidarietà. Ed esistete dal contattarmi perché siete anche voi colpevoli. Colpevoli di volervi inserire a forza nella vita di un'altra persona, senza comprendere il senso della misura e della realtà, o nel mio caso il valore del tempo degli altri. È psicologia spicciola, ma cercate qualcuno di vero, di concreto, che si ha a voi vicino, con il quale poter interagire, parlare, scambiare parole, ma anche fare esperienze. È quello il succo della vita, perché altrimenti qui vi trovate con un retino a correre dietro a dei fantasmi. Ma siete voi che avete deciso di correre. Ed ecco qui il senso del titolo tra miraggi e realtà. per un weekend alla fine naufragato tra correnti esterne al mio controllo. E voi? Voi siete mai stati contattati da qualcuno che si è finto un lottatore famoso? Perché io credo che stiano lì ad osservare. Magari vedono sotto ai profili Twitter o Instagram chi risponde, chi mette mi piace e poi ci sia effettivamente un movimento di approfittatori che c'è prova. Quindi è successo a qualcuno di voi e se non è accaduto quanto invece è alta la vostra smania di entrare o smania la vostra smania credo di entrare in contatto con la star del cuore a cosa sareste disposti a rinunciare? Cosa sareste disposti a fare pur di riuscire in questa impresa? Se vi va di parlarne dita a roventi come al solito vi aspetto nei commenti.